È stata una lunga giornata, ma tutto può cambiare. Basta un'idea. L'idea di una serata speciale. Stasera si gioca. Gioca! Nessuno può resistere al richiamo del divertimento. Stasera si gioca! Con Cranium. Divertente, appassionante, irriverente. Con Cranium hai quattro giochi in uno. Sfide i tuoi amici con prove artistiche. Creative. E rompi capo. Sarà una partita veloce o durerà tutta la notte. Con Cranium lo decidi tu. E il divertimento continua con tutti gli altri giochi in scatola Hasbro. Tabù, Jenga, Trivial Pursuit, Indomimando, Salti in Mente, Cluedo, Monopoli. Con i giochi in scatola Hasbro, stasera si gioca! Hei! Grazie.